ecco qua abbiamo installato una bella applicazione che si vede le web camera in molte parti del mondo in tempo reale andiamo ad aprirla si chiama web camera online scaricata da google play o camera oppure cerchi noi vediamo un po quale questa location belgrado categoria hotel qui si vede in questa camera di questo hotel a max non so dove si trova in russia con votare di reception in russia si può fare lo zoom e quindi si avvicina anche è una bella applicazione molto divertente direi abbiamo un po sui tempi gli orari io dò un bel like che non c'è mano vedi location russa belgrado categoria hotel premendo su snap ti salva vedi ti salva tipo uno screen nella galleria del telefono premendo sul screen puoi guardare tutta l'immagine in full screen facendo invece che il zoom puoi zoomare l'immagine non so quanto sia divertente guardare una signora che sta seduta e sta lavorando però torniamo indietro andiamo su un'altra proviamo per esempio andare a vedere cosa succede qua musca ecco qua c'è traffico musca perché come vedi se facciamo largo l'immagine l'altro sono fermo perché c'è traffico non perché l'immagine è fermo faccio vedere da persone che camminano vedi adesso è una bella applicazione che si funziona piuttosto bene anche se ovviamente quando si muove le luci c'è c'è un po di scatto di scattosità ma quello siamo sempre in stringhe possiamo fare uno snapshot di quello che abbiamo visto parli nella galleria poi questa da quella che vede si gira anche questa fotocamma si gira da solo non ci darei ovviamente in guardarti punti della città e qui siamo in mosche abbiamo detto possiamo andare dall'altra parte come vedi si vede questa strada di lì per cui possiamo fare un zoom non c'è l'immagine aspetta se facciamo lo zoom non c'è un parco pubblico vabbè comunque l'applicazione può essere scaricata dal play store si chiama web camera yes si chiama appunto dove sta web camera online la trovi sul play store